Unità cinofile della Polizia di Stato in azione nelle scuole a rettine, obiettivo contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga negli istituti scolastici. I cani poliziotto con il loro fiuto hanno consentito di ritrovare sostanze stupefacenti nascoste all'interno dei locali degli istituti. In un caso era stato il vicepreside a richiedere l'intervento della polizia, la marijuana è stata ritrovata all'interno dei bagni e sulle scale antincendio. Altra sostanza è stata ritrovata nella disponibilità di un collaboratore scolastico, segnalato all'autorità amministrativa. Successivamente i controlli si sono estesi anche ai parchi cittadini Pionta e Pertini. Nella vegetazione del Pionta sono stati ritrovati 300 grammi tra ascisce e marijuana, mentre al parco Pertini sono stati perquisiti alcuni giovani trovati in possesso di pochi grammi di marijuana. Tante le brochure di YouPoll distribuite ai ragazzi contenenti utili consigli su come segnalare episodi di spaccio e di bullismo direttamente alla sala operativa della questura, instaurando così quel senso di vicinanza e fiducia con la Polizia di Stato.